Sono in corso i lavori di riqualificazione e rinnovamento dell'arredo urbano del centro storico della frazione di Vigne ad Arco. Iniziati alla fine di novembre i lavori sono ripresi a fine febbraio e dovrebbero terminare prima dell'inizio della stagione estiva. Oltre alla posa della nuova pavimentazione in Porfido verrà restaurata la vecchia fontana e saranno rifatti gli allacciamenti idrici e i vari sottoservizi per un totale di spesa di 500 mila euro di cui 391 mila per la realizzazione dei lavori e 108 mila per le somme a disposizione dell'amministrazione. Nella serata pubblica organizzata dal comitato di partecipazione di Romarzollo, dove hanno partecipato sia il sindaco Alessandro Betta che l'assessore all'urbanistica e alla cultura Stefano Miori, all'ordine del giorno c'erano i suggerimenti, le possibili migliorie, nonché le criticità che i censiti hanno sottoposto all'amministrazione comunale, senza dimenticare gli inevitabili disagi che questo tipo di interventi comporta. I censiti, spiega Miori, hanno in particolar modo richiesto una cura specifica per quello che riguarda l'inserimento di alcuni elementi del ciottolato. La richiesta è quella di mettere il ciottolato sui bordi della piazza e in un tratto di via verdi. Un altro elemento importante, conclude, riguarda i parcheggi. I residenti potranno continuare a parcheggiare in piazza nell'attesa della realizzazione di un'area di sosta con la variante 15.